Ciao creatura, io sono Eccati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai E-S-M-A Questa sera come ogni inizio di mese e meglio di così insomma è il periodo giusto questo anche decisamente per leggere due capitoli, non solo uno ma ben due capitoli del nostro amato libro Horror Store che mi è stato chiesto da tante persone di continuare a leggerlo insieme e quindi ho detto beh giustamente nel periodo di Halloween di Ottobre leggiamo due capitoli, tutti questa sera ovviamente, mi piace iniziare il mese con una buona lettura di Horror Store se ci troviamo bene a leggere due capitoli allora anche a novembre leggiamo due capitoli perché uno solo mi sembra di vedere una puntata di una serie tv e dire no ne voglio vedere un'altra quindi andrò come visto nel video precedente andrò a indossare i miei occhiali da vista è la prima volta che leggo un libro con i miei nuovi occhiali quindi andiamo a provare insieme Arsley, oddio, sono queste parole impronunciabili siamo tutti mattinieri se trattiamo con cura e rispetto al nostro corpo e alla nostra mente fermati al tuo Arsley per trasformare la colazione nella celebrazione di un giorno nuovo di zecca se tutti qui tutto a un tratto, ogni cosa ha un sapore migliore disponibile in ocra, melone, verde, salmone, prugna durante il giorno Orsk era un edificio come un altro un contenitore nazionale costruito con materiali moderni per ospitare mobili e persone ma dopo le undici di sera quando nessuno vagava per i suoi corridoi quando gli uffici sul retro erano bui e gli ultimi clienti venivano accompagnati fuori dalle porte d'ingresso quando le entrate venivano sprangate quando gli ultimi addetti alle vendite se ne andavano a casa diventava qualcos'altro Amy seduta su un gabinetto del bagno delle donne al primo piano era ignara dei sottili cambiamenti che stavano avvenendo attorno a lei sapeva solo che Basil stava cercando di ucciderla la loro maratona notturna era iniziata da appena un'ora e lui non la smetteva di assillarla cosa le piaceva del suo lavoro quali erano gli aspetti più gratificanti meno gratificanti Amy aveva risposto come un essere umano fino a quando si era accorta che le sue domande altro non erano che l'inizio di una noiosissima lezione sull'importanza del capitale umano nella cultura Orsk si era dilungato sul valore del lavoro di squadra sull'orgoglio del punto vendita sulle tre A atteggiamento aperto è affidabile aveva citato a memoria l'autobiografia del fondatore di Orsk Tom Larson Ruth Annie vinceva di ascoltare ma Amy vedeva che stava segretamente risolvendo uno stoku sotto il tavolo e se lo vedeva lei lo vedeva anche Basil che però sembravano farci caso perché stava prendendo di mira solo Amy avrebbe voluto dirgli che stava benissimo così che non aveva bisogno dei suoi consigli di vita grazie tante sapeva già che sarebbe tornata a Youngstone quindi perché non la lasciava in pace combattuta tra il dire qualcosa o soffrire in silenzio Amy aveva cercato rifugio in bagno se Basil tiene così tanto Orsk dovrebbe venire qui a pulire pensò le pareti del cubicolo erano coperte di scritte se fossero stati divertenti tirare qui per una laurea in belle arti proprio sotto al dispenser di carta igienica ci sarebbe rimasta più a lungo ma si trattava per lo più di strani nomi e date dopo essersi pulita e aver tirato lo sciacone andò al lavandino si insaponò palmi dita e polsi e vi aggiunse un altro strato di sapone cercando di tirarla per le lunghe prima di tornare in sala relax quando rientrò nella stanza a Basil guardò l'orologio sono tre volte che sei andata in bagno in un'ora e il motivo per cui ti riguarda mi riguarda perché sei qui per perlustrare il punto vendita non per nasconderti in bagno tutta la notte Emi ti grignò i denti farò tutte le perlustrazioni che vuoi dimmi solo quando sei pronto torno a sedersi al proprio posto la sala relax era dotata di tavoli e sedi alsli avevano un prezzo accessibile e un design semplice ed elegante ma Emi non riusciva a starci seduta 15 minuti senza che le venisse il mal di schiena lo stenni era seduta in silenzio con tre tubetti di glistex allineati sul tavolo il giornale di sudoco nascosto sulle ginocchia accanto alla porta c'era un gigantesco secchio di plastica pieno di magic tools attrezzi magici i geni di Milwaukee progettavano i loro mobili in modo che fossero incompatibili con i comuni attrezzi domestici i prodotti ORSC potevano essere montati solo con gli esclusivi magic tools prefettati da ORSC la piccola brucola a forma di L era famosa per la facilità con cui veniva smarrita perciò un negozio le forniva in gran quantità i dipendenti dovevano sempre portarsene una dietro Emi ne aveva una in tasca in quel momento e un'altra tozzina nel cassetto delle cianfruselli a casa si guardò intorno su una parete c'era un grosso manifesto che recitava il lavoro fa di ORSC una famiglia e il lavoro è una libera scelta lo stile europeo della frase assolutamente fasulla e leggermente ampolloso faceva parte della sceneggiata Ikea di ORSC e Emi non riusciva a decidere se fosse un tantino irritante o del tutto offensivo secondo lei niente era peggiore di un negozio che fingeva di essere qualcosa che non era non c'era altro nella stanza che tenesse impegnati gli occhi e la mente di Emi una tv a schermo piatto appesa in un angolo trasmetteva un servizio della CNN senza sonoro un gruppo di carcerati in tutta arancione veniva fatto marciare in tondo in un cordile di cemento Emi conosceva quella sensazione beh, se la tirò la propria sedia verso il tavolo di Emi sai, mi è dispiaciuto molto quando ho visto la tua richiesta di trasferimento penso che tu abbia parecchio potenziale con un po' di impegno penso davvero che potresti diventare assistente di reparto grazie replico lei senza staccare gli occhi dallo schermo dico sul serio Emi un tempo ero un commesso come te poi ho fatto l'esame e sono diventato assistente di reparto poco dopo ero venditore poi caporeparto infine Pat mi ha promosso a vice direttore se ce l'ho fatta io puoi farcela anche tu certo e a quel punto sarei sulla strada per la dirigenza il che significa che sarei responsabile di tutto quello che succede in questo negozio sarei colpato ogni volta che qualcosa va storto dovrei partecipare a più riunioni dovrei lavorare per più ore dovrei occuparmi delle emigranie programmate di tutti quanti e guadagnerei ben 75 centesimi in più all'ora non ho intenzione di fare l'esame l'hai già fatto replicò Basil me l'ha detto Pat Ruth Danny si rianimò davvero? ma è fantastico congratulazione Emi Emi si sforzò di non perdere il controllo cosa c'è? le chiese Ruth Danny sinceramente preoccupata il silenzio crebbe è un esame facile continuò a cinguettare Ruth Danny ti basta leggere il manuale per 20 minuti e riempire gli spazi vuoti la sua voce si affievolì non l'ha passato spiegò Basil per due punti ho chiesto a Pat di chiedere alla sede regionale di fare un'eccezione ma sapete come la pensano sui parametri aziendali i numeri non mentono mai cose del genere Emi avampò tutti scherzavano sulla facilità dell'esame per assistente di reparto tanto che ce la farebbe perfino un direttore di punto vendita Emi era così sicura di sé che non aveva neanche fatto lo sforzo di prepararsi aveva dato per sconto di superarlo puoi riprovarci tra sei mesi disse Basil se resti qui ti aiuterò a studiare non voglio il tuo aiuto ribatte Emi sei partito da armati cosa vorresti dire chiese Basil armati è il reparto più sfigato del negozio rispose Emi anche un vasetto di gelatina d'uva potrebbe essere assistente di reparto per armati sono solo grosse scatole vuote con le ante ciò rivela una concezione errata di armati disse Basil armati è tosto intervenne Ruth Annie la gente si incavola perché sono difficili da montare ok disse Emi tirando un respiro mi spiace armati è figo come la chirurgia cerebrale stessa cosa non avrei dovuto dire niente se non vuoi stare qui non sei costretta disse Basil io voglio stare qui continuò Emi conficcandosi le unghie nei palmi ma senza offesa non ho bisogno di altri consigli e per favore basta citare altri titoli dei capitoli delle memorie di Tom Larsen so che questa è la tua religione ma per me è solo un mestiere è proprio questo il tuo problema ribatte Basil per te è solo un mestiere e cosa dovrebbe essere? lavoro stessa cosa di Semi no replicò Basil un impiego è ciò che ha un tizio al distributore di benzina Dorsk la gente ha un lavoro è una vocazione la responsabilità verso qualcosa di più grande di te il lavoro ti dà un obiettivo ti permette di costruire qualcosa che continua a vivere dopo che tu non ci sei più il lavoro ha uno scopo che va oltre guadagnare soldi ti supplico di smetterla di Semi non c'è niente di male nell'essere seri intervenne Ruth Danny lei non riesce a prendere niente sul serio disse Basil è quello il suo problema io faccio il mio mestiere ripete Amy timbro il cartellino mi occupo del reparto vendo alla gente le loro scrivanie incasso il mio stipendio ecco per cosa mi paga Olsk per fare il mio mestiere non ho intenzione di fare la commessa per il resto della vita davvero cosa ho intenzione di fare io a un tratto Amy si rese conto di non avere alcun progetto io ho dei progetti e non sono affari che ti riguardano devi vedere il quadro completo insiste Basil sai cosa vedo io vedo te che dedichi la tua vita a un negozio che è l'imitazione di un negozio migliore con mobili migliori e una gestione migliore ecco qual è il quadro completo che io vedo forse è il caso di cominciare la prima prelustrazione propose Ruzzani io ho serie responsabilità e le prendo sul serio ripete Basil quali responsabilità chiese Amy ma insomma parliamo di vendita al dettaglio è così importante sicurezza disse Basil sono responsabile della tua sicurezza e quella di chiunque altro in questo punto vendita prendo questa cosa molto sul serio sono in grado di arrivare a fine giornata senza la tua protezione replicò Amy non mi perderò né morirò di fame da qualche parte nello charum nello charum non capisco il tuo atteggiamento disse Basil vuoi una promozione ma non studi per l'esame non vuoi fare la commessa per il resto della vita ma hai mollato l'università hai davvero un grosso progetto o ti limiti a improvvisare sul momento Amy si alzò in piedi dove fai? domandò Basil lei si diresce alla porta in bagno ci si è appena stata le gridò dietro a lui Amy spalancò la porta del bagno delle donne era l'unico posto in cui Basil non poteva seguirla abbagliando un cumulo di stronzate cercando di farla sentire in colpa non lo capiva che era già abbastanza umiliata senza che lui inferisse l'ottanta per cento dei candidati superava l'esame per l'assistente di reparto l'ottanta per cento Amy aprì il rubinetto i tubi emissero uno sceno grugnito che fece tremare la porcellana e poi sputarono acqua rugginosa nel lavandino Amy lo richiuse e scosse la testa l'intero posto sta andando in malora fece alcuni respiri profondi cercando di calmarsi cosa le stava succedendo osservò il riflesso della sua faccia ghiazzata gli occhi vagarono verso il lato destro dello specchio il respiro le si mozzò in gola c'erano di nuovo i graffiti accanto allo specchio vide un ammasso di scritte che prima non c'erano o forse sì Archie Wilson alveare tre anni Jansi 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 non so Rawls alveare sei mesi J. Paxton alveare due A cosa diamo nera l'alveare una squadra di football una banda di spacciatori di Cleveland c'erano una trentina di voci incise nella pittura e tutte seguivano al medesimo formato un nome la parola alveare e un periodo di tempo più vicino alla porta vide altre scritte con qualche variante kit poe alveare due anni tagliati 5 A lovis dei A un anno tagliato 6 anni il più lungo del mazzo Carson Moore alveare 3 anni 4 anni 5 anni 7 anni per sempre Amy si asciugò le mani sui jeans e uscì dal bagno nel corridoio sentiva gli spazi vuoti di Osk tutti intorno a lei 20.400 metri quadrati che la isolavano in mezzo a un labirinto il corridoio di servizio dietro dell'edificio il magazzino il mercato lo showroom l'immenso parcheggio che li separava dalla superstrada Osk era così grande che c'era bisogno di un certo numero di persone nei suoi locali per tenerlo sotto controllo 3 non bastavano il negozio era infermento irrequietto cresceva lentamente suotato di gente Osk sembrava pericoloso slam Amy si bloccò cos'era quel rumore slam click slam il corridoio si allungava davanti a lei con le porte degli uffici dei dirigenti su entrambi i lati alle pareti c'erano poster che parlavano di sostenibilità vivere verde per un pianeta verde l'impegno di Osk per le generazioni future e c'era una scalinata che portava giù al pian terreno era da lì che preveniva il rumore passarono i secondi e il suono più forte era il respiro di Amy inspirò a fondo e si impose di essere pratica era sul posto di lavoro era impossibile che potessero trovarsi in pericolo nessuno era mai stato assassinato in un best buy o rapito in un target se esisteva un posto più sicuro di un grande punto vendita di proprietà di un'azienda internazionale Amy non era in grado di immaginarlo eppure non riusciva a scrollarsi di dosso il senso di disagio scese al pian terreno e si fermò in fondo alle scale adesso il rumore era molto più sommesso clic clam clic slam clic clam appena oltre l'orologio marcatempo Amy vide la porta dell'entrata di pendenti sbattere nel vento sollevata spinse il maniglione antipanico e l'aprì rivelando il parcheggio inondato di un arancione chimico dalle lampade al sodio rimase interdetta sorpresa che fosse piena notte dentro al negozio non c'erano finestre lucernari o orologi a parete né alcun modo per conoscere l'oro o la temperatura come un casino Orsk esisteva in un eterno in un eterno ora una presta calda e umida soffiò attraverso la soglia a parte un invisibile esercito di rane che gracidavano nella palude la notte era assolutamente silenziosa Amy vide la sua piccola onda rossa in fondo al parcheggio desiderò poter camminare sull'asfalto caldo mettersi al volante e guidare dove non poteva tornare a casa senza i soldi che doveva ai conquilini non poteva lasciare quel posto senza perdere il lavoro non aveva un posto in cui andare Amy sbatte la porta dell'entrata di pendenti con più forza di quanto volesse e una piaccia di scaglie di pittura cadde dal soffitto la porta non si chiudeva e lei si rese conto che c'era qualcosa nella serratura che la teneva bloccata gomma da masticare un gigantesco crumorosa Amy prese in considerazione l'idea di staccarlo poi decise che levare via le gomme da masticare non rientrava nelle sue mansioni se Basil voleva fare tanto il responsabile poteva occuparsene lui era agigliato quando Amy tornò in sola relax non puoi continuare a nasconderti in bagno dobbiamo cominciare le perillustrazioni l'entrata di pendenti in rotta disse Amy perché eri di sotto ho sentito sbattere la porta così ho deciso di essere responsabile qualcuno ha danneggiato la serratura non si riesce a chiudere una violazione della sicurezza disse Basil visto è proprio per questo che siamo qui stanotte corsi a indagare Rosseni chiuse il giornale di Sudoku pensi che qualcuno si sia introdotto davvero nel negozio non so cosa sta succedendo rispose Amy ma ci sono dei nuovi graffetti in bagno e giurerei che venti minuti fa non c'erano comincio ad avere la sensazione che non avrei dovuto accettare disse Rosseni giocarellando con il cappuccio di Blikstex volevo le ore extra ma pensavo che mi sarei limitata a fare i miei Sudoku non pensavo che avremmo davvero visto qualcuno non succederà niente di brutto la rassicurò Amy un istante prima che la risata di Woody Woodpecker rimpise la stanza guardò il telefono aiuto io spengo il telefono quando entro qui dentro spiega a Rosseni ecco perché non li ricevo mai beh se li ruppe nella stanza trafelato sono riuscito a chiuderla ma non a chiave abbiamo decisamente subito una violazione della sicurezza annunciò sarà meglio cominciare subito a pattugliare il negozio andò alla lavagna magnetica buzzò una mappa dal punto vendita iniziò a stilare una tabella di marcia ho diviso il negozio così è più facile da perlustrare e ho assegnato una zona a ciascuno per questo primo turno Rosseni farà lo showroom Amy tu ti occuperai del mercato e io del magazzino self service un momento dobbiamo dividerci chiese Rosseni c'è un sacco di spazio da coprire spiegò Basil non penso che sia una buona idea pietò Amy e nel bagno delle donne ci sono dei graffiti a cui dovresti dare un'occhiata i graffiti sono l'ultimo delle mie preoccupazioni replicò Basil sono parecchio strani mi sentirei molto più sicura se andassimo tutti insieme insiste Rosseni cosa faccio se trovo qualcuno voglio dire è questa l'idea no? tu vuoi che io trovi qualcuno? ma cosa succede quando lo trovo e sono da sola? d'un tratto sembrò che Basil avesse una tremenda emigrania era evidente che avesse dedicato un sacco di tempo e impegno nel suo diagramma senza riflettere sui dettagli dividersi poteva essere stata un'opzione praticabile quando per pattugliare il negozio era previsto un gruppo di fortudi operai come Tommy Craig e agli altri ma cosa avrebbe fatto Rosseni se si fosse imbattuta da sola in un intruso cosa avrebbe potuto fare chiunque di loro esibire un atteggiamento aperto e affabile se andiamo insieme sarà troppo facile eluderci osservò Basil dobbiamo dividerci in questo modo avremo un raggio d'azione molto più ampio Ruzzeni e io andremo insieme di semi pensa alla nostra sicurezza noi ci occuperemo dello Sharon e tu del mercato del magazzino il solo accenno a eventuali rischi legali convince Basil ad accettare la proposta e va bene dobbiamo metterci subito all'opera disse per quanto ne sappiamo in questo momento c'è qualcuno là fuori che sta danneggiando la proprietà del negozio erano quasi le 11.30 quando emersero nello Sharon accanto alla caffetteria con bambini alla loro sinistra davanti a loro c'era la scalinata che scendeva al mercato state attente e tenete gli occhi ben aperti disse Basil nessun miglior tono da condottiero ci rivediamo in sala relax dopo questo primo pattugliamento se stanotte succede qualcosa è lì che ci riorganizzeremo d'accordo e se vedete qualcosa di sospetto chiamatemi immediatamente sono stato formato per queste situazioni ricordate la vostra sicurezza è una mia responsabilità va bene sospiroemi si divisero è finito il capitolo ma ovviamente ne leggiamo un altro perché la situazione si fa troppo frizzante libera la stanza e sbarassati delle tue preoccupazioni non importa quanto è grande la tua casa l'armadio liripip ti offre un posto in cui riporre le cose di cui hai bisogno ma che non vuoi avere sotto gli occhi ogni giorno disponibile in faccia naturale acero chiaro e grigio quercia e mi tagliò per la caffetteria verso le scale mobili seguiremo il sentiero brillante e luminoso disse poi si accorse che nessuno le stava camminando accanto si voltò a videruzze in duggiare dall'altro lato della caffetteria scusa disse Rossellini vuoi controllare prima la caffetteria non ho nemmeno ben capito cosa stiamo cercando adolescenti insonni non lo so rispose Emi andiamo faremo la caffetteria per ultima sei sicura se vuoi fare prima la caffetteria possiamo fare prima la caffetteria no hai ragione si arrese Rossellini faremo a modo tuo non si mosse e vieni le chiese Emi scusa disse Rossellini decidendosi finalmente a raggiungere Emi questo showroom mi mette paura è così diverso dal negozio di Youngstone sono esattamente identici replicò Emi perché qualcuno dovrebbe intrufolarsi in un in un negozio disse Rossellini non è una cosa che vedi mai accadere giusto i clienti fanno ogni sorta di cose folli rispose Emi ricordo questo grassone enorme che un giorno è arrivato poco prima della chiusura si è levato le scarpe ha piegato i pantaloni e si è infilato in un musk e si è addormentato nessuno se ne è accorto per un'ora e Pat mi ha detto che una volta dopo la chiusura ha trovato una donna nascosta con il figlio in una lingam stava attraversando camere da letto e la porta dell'armaggio si è aperta e i due sono scusciati fuori per poco non è morto raggiunsero la scala mobile prima di prendere il sentiero brillante luminoso Emi si fermò davanti alla fila di foto incorniciate che ritraevano i dirigenti del punto vendita sai disse Pesel mi piace molto di più quando la sua bocca non si muove Ruzzelli sembrava sul punto di voler dire qualcosa di rimpugente poi si astenne è un giovanotto simpatico è un imbecille replicò Emi non tutti quelli con cui sei in disaccordo sono delle brutte persone disse Ruzzelli Pesel si ha un sacco di responsabilità osservò Ruzzelli tipo chiese Emi assicurassi che ogni unità sia venduta senza una vite assicurassi che l'orario faccia schifo per quanti più dipendenti possibile si occupa della sorellina spiegò Ruzzelli a nove anni e in pratica Pesel le fa da papà paga tutto lui dai calzini alla retta scolastica Emi passò in rassegno il suo elenco di possibili repliche senza trovarne una data va bene non lo sapevo disse ma continua a sembrare uno di quei video di formazione aziendale Orsk questo Orsk quello veneriamo Orsk Ave Orsk Orsk è stata davvero una gran cosa per lui disse Ruzzelli Pesel è di East Cleveland Cleveland hai visto che aspetto a quel posto solo al notiziario delle dieci pensò Emi quando ha cominciato qui era sul punto di arrendersi Orsk gli ha dato un lavoro e ha trasformato la sua vita alcune persone trovano la chiesa alcune persone gli alcolisti anonimi e altre le gang Pesel ha trovato Orsk conversazioni del genere erano frustranti cosa poteva dire Emi poteva convenire che San Pesel meritava una chiesa col suo nome oppure poteva replicare con un'osservazione sarcastica che l'avrebbe fatta apparire meschina anche lei aveva avuto una vita da schifo crescendo in una squale da roulotte con una madre la cui idea di tempo in famiglia era giocare a nascondi la vodka ma se adesso avesse tirato fuori l'argomento avrebbe dato l'impressione di voler competere con Pesel ed era impossibile che potesse vincere una gara di a chi è andata peggio non contro un nero cresciuto a East Cleveland facciamo la nostra stupida perlustrazione disse invece poi si allontanò dalla scala mobile e seguì le frecce oltre un'enorme espositore di cataloghi orske all'ingresso di soggioni e divani sai disse Rosenni ho lavorato nel negozio di Youngstone per 13 anni senza mai avere un problema con lo showroom ma il primo giorno che ho iniziato qui mi sono sentita come persa non persa in senso divertente no in senso spaventoso Emi non stava ascoltando continuava a bruciarle la discussione con Basil su quello stupido esame per assistente di reparto non era il fallimento a irritarla bensì il fatto che tutti sapessero del suo fallimento Rosenni continuava a chiacchierare stava andando a trovare Diane a cucine conosci Diane Darnovski quella che porta tutte quelle spille di papo natale durante il periodo natalizio beh stavo andando da lei ma ho girato talmente in tonto che ci ho messo mezz'ora tutta la posa pranzo mi sono spaventata da morire ero nel panico pensavo che il negozio si stesse davvero muovendo alle mie spalle quando ho raggiunto Diane avevo solo voglia di mettermi seduta a piangere come una scema non ho mai più messo piede nello charume dici sul serio chiese Amy sei qui da undici mesi e non sei mai andata nello charume si cambia quando si invecchia disse Rosenni vedrai è strano qui senza è strano qui senza persone a misemi probabilmente l'agitazione di Rosenni la stava contagiando cominciò a canticchiare la musica di The Twilight Zone dove non lo so la canzone tutti tu 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 smettila ti prego disse Rosenni è già abbastanza brutto così Amy si fermò a una palina informativa color marroncino vi era dipinta una cartina dello charume con un gigantesco voi siete qui proprio in mezzo a soggiorno di divani è solo un grande anello come in ogni altro orsk proprio come Youngstone spiegò tracciando un cerchio sulla mappa ho portato in giro un gruppo di stagisti questa mattina hanno imparato subito Rosenni guardava la mappa allo stesso modo in cui un gatto guarda la tv Amy si resse conto che non aveva la minima idea di ciò che aveva davanti agli occhi vedi dove dice voi siete qui le chiese fece Rosenni poco convinta e dove ci troviamo c'è una mappa in ogni reparto così puoi orientarti come un sentiero di briciole se fai attenzione non puoi perderti Rosenni continuava ad apparire scettica seguimi e basta disse Amy saremo di ritorno alla sala relax tra mezz'ora si fecero strada tra bidone di cuscini aree gioco per bambini piani di lavoro palline informative e cartelle pubblicitarie appesi al soffitto grosse ceste per gli acquisti in pulso nascondevano gli angoli e alle volte Amy non riusciva a scorgere il sentiero brillante e luminoso attraverso il dedalo di mobili l'immenso spazio dello showroom svaniva verso un punto di fuga distruggendosi e piegandosi lungo il tragetto e dopo un po' Amy ebbe l'impressione di vagare attraverso una vasta e impervia landa desolata costellata di mobili di una civiltà scomparsa superarono una fila di sei diverse librerie smagma ciascuna contenente centinaia di copie dello stesso libro design is good sora coperta arancione e nera Orsk li acquistava a vagonate e infine raggiunsero cucine la parte del negozio che Amy preferiva il segreto di cui si vergognava era che essendo cresciuta con una piastra elettrica a due fuochi e un tostapane sognava di avere una cucina Orsk si fermò davanti a una lucida composizione arblo tuta bianca e si rivolse a Rozzeni ti immagini potersi permettere una cosa del genere Rozzeni aveva respiro affannoso una patina di sudore le imperlava il laburo superiore rovistò nelle tasche e ne tirò fuori un tubetto di blickstex lo applicò e parve che il suo respiro si calmasse ce l'ho con la cucina confessò solo che le credenze sono grigio artesia invece di bianco artico Amy si sentì stupida certo che Rozzeni poteva permettersi una bella cucina non affogavano i debiti per un'università che aveva mollato non comprava i vestiti da Goodwill probabilmente aveva un piano pensionistico e la sua auto non pisciava olio di continuo Amy invece non riusciva neanche a concepire di pagare qualcosa che costasse più di un centinaio di dollari cos'è quel rumore chiese Rozzeni Amy si mise in ascolto proveniva dal lavello qualcosa che grattava sul metallo vi si avvicinò cos'è chiese ancora Rozzeni esclamò Amy tirandosi indietro di scatto un grassoccio ratto nero sgusciò fuori dallo scarico come se non avesse le ossa raspò contro il lato del lavello e quando gli artigli trovarono un appiglio si so sul palco sul bancone Rozzeni si mise una mano sulla bocca cosa facciamo disse Amy entrambi osservarono riditerrato zampettare sul bancone e infilarsi nello stretto spazio tra il frigorifero e la parete lo sentirono scivolare sul cartongesso e cadere mollemente sul pavimento Rozzeni offerò Amy per un pulso i miei piedi esclamò i tuoi piedi cosa dove non voglio che mi tocchi i piedi Rozzeni sfregiò sul sentiero brillante e luminoso e Amy la seguì avevano raggiunto sale da pranzo quando si fermarono in preta all'agitazione Rozzeni si applicò un nuovo strato di blistex non ho mai visto un ratto qui dentro prima d'ora osservò Amy pensi il tarati matto l'impianto idraulico non è neanche allacciato disse Rozzeni questo significa che era dentro la credenza i ratti sono animali molto sociali dove ce n'è uno ce n'è sempre una dozzina Amy rapprevidì e ripresero a camminare il negozio sembrava sconfinato e steso attorno a loro silenzioso e segreto ramificazioni di dedali e cunicoli pieni di mobili come una casa di bambole senza fine cercò di allungare il passo ma Rozzeni continuava a rallentare forse dovremo tornare indietro a controllare di nuovo cucine disse ci siamo passate parecchio in fretta potrebbe esserci sfuggito qualcuno continuiamo il giro e basta replicò Amy passavolo in camerata a letto una vasta distesa di materassi circondati da simulazioni di camere Rozzeni si fermò in quella che mostrava la collezione piccone e quello scapuzzino bisbigliò pensi sia il caso di controllare dietro la porta credi che qualcuno si è nascosto lì dentro la faccia di Rozzeni perse colore forse Amy andò alla porta e tirò con forza la maniglia ah squitti prematuramente Rozzeni è finta di semi scottendo la porta la parete dell'esposizione tremò queste porte sul nulla sono in tutto il negozio non ti allontani mai dalle casse vero Rozzeni fece di no con la testa guarda qui di semi infilò una mano dietro la tenda e tirò la corticella delle veneziane sollevandosi quelle rivelarono una finestra composta da pannelli plastici di un bianco latticinoso inchiodati alla parete vista incredibile non trovi Rozzeni tenneva gli occhi ben chiusi è tutto a posto la risicurò Amy non c'è niente da vedere è tutto finto Rozzeni schiuse un occhio poi tutti e due e assunse un'espressione imbarazzata non volevo vedere le viscide creature disse e mi rise le cose quando ero piccola avevo paura del buio spiegò Rozzeni i miei genitori mi misero a dormire in camera mia e non riuscii a chiudere occhi per settimane ogni notte vedevo le viscide creature nell'ombra brutte macchie scure e un tuo se sulla parete che strisciavano giù per venire a prendermi non potevo dirlo a nessuno ma dovevo fare qualcosa non bastava chiudere gli occhi perché avrei potuto dare una spirciatina pensavo che se io non potevo vedere loro loro non potevano vedere me così mi legavo le calze attorno alla testa a mo' di benda non è sciocco cosa ti avrebbe ero fatto se ti avessero vista non l'ho mai scoperto rispose Rozzeni e la sua voce si fece sommessa cose brutte il silenzio si fece sgradevole andiamo di semi mi stai spaventando continuarono a camminare ma e mi si tenne un po' più vicino a Rozzeni consapevole dell'agitazione dell'altra tutti quei discorsi sulle viscide creature avevano nervosito anche lei lo showroom si estendeva silenzioso perdito d'occhio sentivano l'aria spostata dai grossi ventilatori a soffitto ma la musica era spenta e l'intero negozio sembrava emanare un senso di trepidante attesa e ascolto dietro di loro qualcosa scricchiolò e le due donne sussultarono non fermarti bisbigliò Amy adesso camminavano più veloci Amy fece appello a tutta la sua forza di volontà per non mettersi a correre come una pasta tra i mobili urlando e facendo rumori così che un suono umano riempisse il vostro vuoto corridoi deserti si diramavano dal sentiero brillante luminoso come braccia che indicavano la strada verso vicoli ciechi e strade senza uscita i piedi del letto le spirgiavano dalle soglie al loro passaggio superarono una palina informativa e i righelli di legno appesi a un piolo cozzarono piano l'uno contro l'altro sospinti dall'aria condizionata il fruscio dei loro vestiti sembrava troppo rumoroso il rombo del sangue nelle loro orecchie soffocava ogni suono Ruth Danny continuava a voltarsi per essere sicura che nessuno le stesse seguendo un movimento attirò lo sguardo di Amy più avanti qualcosa si contorgeva su un letto musca una palla pelosa fremeva sui cuscini come un cuvo di ratti poi si divise in due le forme le forme balzarono giù dal letto e indietreggiarono Amy aprì e chiuse gli occhi non capiva cosa stesse assistendo poi una delle forme e gli spiegò un ardo e salutò ehi gente come va chiamò Matt ansante si uscì con la barba dall'altro lato del letto Trinity si stava tirando giù la t-shirt nera ehi disse rossa in volta Ruth Danny emise un sospiro di sollievo e strinse il braccio di Amy ma che diavolo chiese Amy stiamo montando il campo base rispose Matt su Musk esclamò Amy in credula vi siete introdotti nel negozio per scopare su lui di Musk sapete quanti bambini hanno appiccicato le loro caccole su quel coso si lascia cadere sul bordo di una piattaforma espositiva sculpin e scopriò a ridere Ruth Danny fece un grosso respiro singhiozzante e si mise a ridere anche lei fu una bella sensazione sembrava una cosa viva da fare in quel mare di mobili morti Trinity a Rosie e Matt fece un chigno imbarazzato non abbiamo forzato nessuna seratura disse Trinity dopo che tutti si furono calmati allora come avete fatto a entrare? vuole sapere ci siamo nascosti in un paio di liripip liripip e abbiamo aspettato che la sala si svuotasse perciò tecnicamente non ci siamo introdotti da nessuna parte aggiunse Matt Basil si arrabberà parecchio chissà non potete dire non potete direlo a Basil protestò Trinity perché non capirebbe siamo qui per condurre una profondita indagine parapsicologica e Amy Ruth e Annie si limitarono a fissarla in parole povere spiego Matt siamo a caccia di fantasmi questo posto pullola di potenziale energia paranormale così abbiamo portato gli strumenti necessari per misurarla indico 4 enormi borsoni neri accanto al letto misuratori mail fotocamere anfrarossi rilevatori portateli di movimento registratori ad attivazione vocale per EVP e tutto il resto come avete fatto a infilare quegli affari in un liripip chiesero zenni li tenavamo in auto rispose Matt una volta avuto campo libero siamo scattaiolati all'entrata dipendenti li abbiamo portati dentro siete stati voi a bloccare la seratura domandò Amy pensavamo che qualcuno si fosse introdotto nel negozio per essere già messi di pattuglia un giro nello sciarumo ogni ora non vorrei essere nei vostri bagni disse Trinity quando la cosa diventerà nota chiederemo tutti chiederemo tutti scusa Basil ma lui non avrebbe mai autorizzato le riprese non con tutto quello che filmeremo adesso capisco disse Ruth Danny siete come i paranormal investigators di e non so cos'è non siamo affatto come i paranormal investigators replicò Matt tanto per cominciare non siamo degli sfigati ma avete un sacco di attrezzatura proprio come quelli o se vuole Danny smettela di dire non so come si dica ribatte Matt puntiamo ben più in alto Trinity vuole che diventiamo i primi cacciatori di fantasmi su Bravo cosa succede quando trovate un fantasma chiede Ruth Danny facciamo una ripresa in alta risoluzione rispose Trinity niente trucchi con la telecamera niente GGI solo prove concrete di fenomeni spirituali e a quel punto chiese ancora Ruth Danny se al fantasma fa un'intervista completa in stile Charlie Rose facciamo un tentativo rispose Matt ma non lo vedo probabile vi rendete conto che i fantasmi non esistono di semi certo che esistono replicati Trinity un sacco di persone li hanno visti un sacco di persone hanno visto Bigfoot di semi la criptozoologia è un ambito di ricerca del tutto diverso spiegò Matt ascolta che tu credi ai fantasmi o no ammetterai che in questo negozio sta succedendo qualcosa di strano i brongrotti i messaggi di aiuto la cacca sul bruca forse non si tratta di fantasmi ma forse si batte sul pavimento con la punta della scarpa sapete cosa c'era qui prima che costruissero orsk niente disse ruzzani passavo di continuo davanti a questo posto ed è sempre stata una palude prima della palude c'era una prigione non credo proprio disse ruzzani tanto tempo fa replicò Trinity nel diciottesimo secolo diciannovesimo la corresse Matt che differenza c'è abiettò Trinity circa un centinaio di anni rispose Matt era parecchio lugubre un mucchio di gente è morta proprio dove ci troviamo adesso e la prigione è tipo scomparsa molte persone non ne hanno mai neanche sentito parlare è inquietante commentò ruzzani non è inquietante replicò Amy non è niente ignora pure la storia se vuoi disse Trinity saltellando eccitata ma tutta quella gente morta si è lasciata dietro energia psichica ed è quella che infesta il negozio le persone venivano gettate in galera per aver rubato qualche pagnotta perciò scommetto che i loro spiriti devono essere ingavolati gli so uno degli imponenti borsoni sul letto Musk ne aprì la cerniera tirò fuori nove uova di plastica color stucco le dispose in fila sulla trapunta apri una confezione di batterie valupack e cominciò a inserire nuove 9 volt cosa sono quelli domando ruzzani rilevatori e mf enf spiego Trinity ci ho aggiunto qualche chiavetta usb per la marca temporale di eventuali picchi così possiamo ottenere traccia di cambiamenti durante la notte non ci ho capito niente confessò Ruzzani ricordate quando tutti erano convinti che i cellulari facessero venire il cancro al cervello chiese Trinity un mucchio di aziende elettroniche economiche ha cominciato a produrre questi affari così la gente poteva vedere se i campi elettrici di telefoni cavi e roba del genere fluttuavano nell'aria i fanatici salottisti continuano a usarli ma per lo più sono per i cacciatori di fantasmi perché domandò perché i fantasmi sono energia di Trinity ovvio Emi si rivolse a Matt credi davvero queste cose ha senso fece spallucce lui un sacco di ricerche hanno dimostrato che i campi elettromagnetici provocati da acqua sotterranea o cavi dell'alta tensione inducono sintomi di infestazione la gente sente rumori odori perde l'orientamento a spazi d'umore si può fare in laboratorio con un grosso magnete Trinity discorse la testa i fantasmi causano attività elettromagnetica non viceversa ne hai mai visto uno chiese Emi Dio quanto lo vorrei disse Trinity con gli occhi sgranati non sarebbe stupendo da ragazzina guardavo i film horror quando i miei genitori non erano a casa e poi spegnevo tutte le luci e camminavo al buio cercando di vedere un fantasma Matt dice di averne visto una volta sono assolutamente gelosa hai visto un fantasma chiese Ruthenia a Matt è stato pauroso beh avrebbe potuto essere qualsiasi cosa ammise Matt l'ho visto appena con la coda dell'occhio era un fantasma un'apparizione a figura intera insiste Trinity me l'hai detto tu è stato tanto tempo fa disse Matt lanciando un'occhiata di sfuggita a Amy il punto è che in questo negozio sta succedendo qualcosa di strano perciò abbiamo intenzione di fare delle riprese tenere la mente aperta vedere quello che vedremo perché sapete cos'è che manca sempre a quegli idioti di haunted investigation paranormal Petro strike force ghosts e ghost detectives chiese Trinity filmati non hanno mai la ripresa di un fantasma sono solo un branco di grassoni che va in giro per case buie dicendo salve salve lo so che ci sei sento la tua presenza dammi un segno poi fincono di sentire qualcosa e girano di scatola a telecamera l'avete visto imitò Matt l'avete sentito oh mio dio ha detto aiuto ci procureremo delle prove continuo Trinity stanotte in video e non parlo di globi fantasmi fumosi o fluttuanti né stringhe di energia avremo vere riprese di vere apparizioni poi monteremo un bel video lo manderemo a 51 minds o antics o una di quelle società di produzione e loro impazziranno il duro cazzo ragazza cacciatore di fantasmi è perfetto per le telecamere Matt porterà la scienza e io la vivacità e il nostro video manderà loro fuori di testa e noi via dall'ohio ghost bomb quale bomba chiese Amy ghost bomb ripete Trinity è il nome del nostro programma perché parla di fantasmi e noi siamo una bomba puoi scommetterci disse Matt dandole il 5 e mi rifisciò in credula è il nome peggiore che abbia mai sentito Trinity la guardò torva e le rivolse un medio dalla manicure perfetta io lo trovo carino disse Rozzenni ghost bomb spacca non è così che si dice grazie disse Trinity prima di rigirarsi verso Amy ora non ti voglio intorno con tutta questa negatività perché ci porterà sfiga questa notte è molto importante ho finalmente l'opportunità di filmare un vero fantasma non voglio che tu e la tua energia cacciate via gli spiriti si rivolse a Ruth Annie perché non vieni con me puoi aiutarmi a sistemare i rilevatori Enf avremo le prove dei fantasmi e saremo famose e fantastiche a Trinity non si poteva dire di no e appena si fu applicata un po' di blickstex rozzelli seguì la ragazza sul sentiero brillante e luminoso in direzione di sale da pranzo dopo un minuto scomparvero tra le fila di mobili lasciando Matt e Amy tutti soli ah bene bene prossima volta capitolo 5 mi sa che anche prossima volta facciamo due capitoli viene un video molto lungo però secondo me più bello due capitoli cosa ne pensi? vabbè ormai sarai già tormentata quindi io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti